Ma diciamo noi quest'anno stiamo andando bene, stiamo metabolizzando la grande crescita dell'export del 2014, nel 2014 eravamo cresciuti di quasi il 50% all'export per la verità anche grazie a un'acquisizione in Francia ma anche con un 15% di crescita reale, evidentemente questi numeri sono difficili da ripetere sentiamo anche noi con la filiale cinese un po' la crisi cinese e l'export ha rallentato non nel senso che sta regredendo ma stiamo consolidando i risultati dell'anno scorso peraltro di estremamente positivo notiamo una maggiore vivacità del mercato interno che rappresenta comunque pur sempre un 50% del nostro volume d'affari Che bolle in penso? Se si può dire Lo diciamo, lo diciamo, stiamo realizzando da tempo e l'abbiamo anche promesso più volte un qualcosa legato alle prese a spina industriali che farà la gioia degli energy manager dell'industria diciamo così manifatturiera non mi dilungo perché sarebbe difficile ma fra qualche mese sarà in giro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti